Una redazione del programma integrato di rigenerazione urbana del microambito centro storico, con previsione di servizi e infrastrutture previa redazione dello studio di fattibilità. E' questo l'atto di indirizzo politico dato dalla nuova amministrazione Marchionna, che tradotto significa riqualificare il cuore della città di Brindisi e dotarlo di infrastrutture smart ed a passo con i tempi. Questo obiettivo non può prescindere dal contestuale reperimento di spazi da destinare a parcheggi, preso atto della tavica cronica e quasi totale carenza di tale servizio in prossimità del centro storico. Si parla anche della riqualificazione dell'ex cinema di Giulio e dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Il punto della situazione lo fa l'assessore all'urbanistica Massimiliano Gianu. Uno dei primi atti che abbiamo messo in cantiere è un atto di indirizzo riguardo la carenza notoria di parcheggi nel centro, soprattutto nel centro storico. L'amministrazione Marchionna sia in campagna elettorale aveva posto l'accento su questa problematica e l'impegno di mettere mano a questa annosa vicenda si è prodotto in un atto che gli uffici dell'urbanistica di concerto con quelli dei trasporti hanno messo in piedi, ovvero un piro che è l'acronimo di un piano integrato di rigenerazione urbana. Voi sapete noi abbiamo molti immobili che non vengono sistematicamente messi a reddito, non riusciamo a venderli nel piano di dismissione. Uno tra questi è il Teatro Ex di Giulio e tutta un'altra serie di immobili che all'interno di un partenariato pubblico-privato possono essere utili per formare una proposta di gestione mettendo in rete parcheggi in una misura non importante e non impattante all'interno del Teatro di Giulio e poi locali di Via Vanini e del mercato del centro dei primi e del secondo piano. Per fare questo abbiamo proposto agli ordini professionali una convenzione, quindi con gli ingegneri, gli architetti e i geometri, per fare uno studio di prefattibilità e poi procedere speditamente dove ve ne fossero le condizioni con il piano stesso e quindi con la progettazione.